per chiudere a proposito di rosso ti parlerai del Milan rosso neo bravo perché il Milan ha una sorta di rivoluzione interna mica interna non si capisce bene cosa succede però Allegri è stato esonerato il simpaticissimo Allegri che vediamo sorridentissimo in questa foto come il suo presidente tra l'altro è quel sorriso standard che ti stampano come arrivi a Milan sai buonasera ma Allegri non vedeva l'ora d'andarsene sì Allegri finalmente è eutanasia per allenatore sì 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 due anni di agonia per lui poverino in cui ha fatto di tutto per farsi cacciare ha dovuto perdere 4-3 col Sassuolo per farsi cacciare 4-3 col Sassuolo e tra cui 4 gol di Berardi Berardi cioè insomma è Sassuolo ha dovuto fare così tra l'altro è stato finalmente esonerato forse anche lui è contento secondo me se l'è un po' studiato ma secondo me tipo ragazzi non giocare no la colpa è della società diciamo subito gli si chiama i tacchetti a Lega voglio sentire l'opinione di Francesco se riesci a prendere il microfono e partecipare a questa discussione visto che lui calcisticamente è preparatissimo è il canale 3 guarda te lo dico in diretta così ok no non funziona niente no sì che si funziona funziona ti sento ti sentiamo io non mi sento devi alzare di più guarda adesso mi sentite? sì ah benissimo è bellissimo sentirsi tutti è bellissimo sentirsi io non mi sento però se mi sentite voi sì 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 ti si sente cosa mi hai chiesto? se no vieni qua con noi se hai paura di non esserlo sentito no 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 cosa pensi di questo cambio di panchina? ma penso che lui non vedesse l'ora di andare via anche perché è una squadra inguardabile ma no dai da metà campo in su da centrocampo in su magari è anche decente le partite le vincivo la difesa ma poi Zappate è un gran difensore sì prima di andare a Milo sì quando ancora giocava era forte Zappate va bene dai allora è un no ma e poi se con questo spieghiamo qual è il successore con allora prima allora la vera domanda è ma Tassotti gli piace fare il vice? sì perché fa il vice di tutti praticamente lui spieghiamo Allegri licenziato squadra affidata a Tassotti per un giorno per un giorno perché poi è stato subito confermato l'arrivo di Sidorf però Sidorf prenderà possesso sufficientemente la squadra solo dopo la partita di Coppa Italia che è successa oggi è arrivato oggi perché ufficialmente non c'era non c'era non si capiva bene una novità c'è già comunque è arrivato un allenatore di colore che come cioè se ci pensate non c'è mai stato forse è il primo caso che chiedo conferma al nostro amico Michele presente in studio ti ricordi allenatori di colore italiani? no no cioè a livelli alti non ne ho mai sentito possiamo dire che è il primo importante sì beh poi comunque è un ex calciatore cioè allora come tutti come tutti sai cosa fanno l'effetto guardiola sì cioè nel senso che qualsiasi giocatore ormai è come guardiola adesso secondo i non so chi sai cosa ha detto Berlusconi di questo allenatore? dimmi che è bello eppure abbronzato il giovane è bello ehi che citazione d'autore 23 e 44 minuti allora ci ascoltiamo la prossima canzone di stasera canzone selezionata come tutte le altre dal pro d'Eugenio questa è la canzone di Pitbull con Kesha questa è Timber o Timberland se avete freddo è il giovane